Musica Musica Penso che questi Technology Days hanno in particolare il fatto che coinvolgono tantissime aziende di tutto il mondo tantissime aziende e quindi tantissime persone e è veramente difficile trovare un evento simile di queste proporzioni C'è quello che ho preferito durante queste giornate tecnologiche c'è justement l'accessibilità all'atelier voir le produe du début alla fine de leur conception, leur fabrication che è una buona aggiungo di messi e ci sono qui posso andare a fare le seminari che posso andare a fare e poi posso anche spaziali chiedere le persone Musica 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 e possiamo vedere l'applicazione nel processo, invece che la teoria o una presentazione di Powerpoint. Il fatto che mi ha piaciuto molto molto, è la fatica, la sua preparazione e riuscita. Questo è stato un belissimo impressione. Lo che ho appreciato a tutti i presentazioni e le letture, è che hai una buona comprendenza di un'ottimità che tutti i prodotti in cui tutti i prodotti. D'azienda di venditori all'anno fino all'anno fino all'inizio fino all'inizio di persone sui macchine. Hai un'ottimità molto di capire di come tutti i prodotti. con le informazioni che si dovessero mettere in casa. È un'altra cosa che ci sono stati posizionati globalmente. La cosa che mi piaciuta è stata la possibilità di confrontarmi con aziende di tutto il mondo, sia partner che competitor. Il nostro lavoro è molto importante per la possibilità di migliorare le prodigioni e produzione. Molte società possono con il produttore o l'applicazione del produttore. Abbiamo lavorato già con l'Horn. L'entreprise è molto bene. L'applicazione e la qualità è tutto. La cosa che mi piacerebbe di questa giornata tecnologica è che ho trovato un'entreprise innovante vicino del cliente per risolvere le problemi di tutti i problemi. Il risultato di affidere per avvicino perché mi piacerebbe di migliorare le prodigie per alcune delle prodigie. Il risultato di migliorare le prodigioni di migliorare le prodigioni di migliorare le prodigione, la cosa che mi piacerebbe da presto a tutti i soldi. Un'per La buona firma è crescita molto veloce. Quindi abbiamo già venduto Horn per i clienti. Non ci ha mai creato nessun problema. E abbiamo già venuto con la competizione molto veloce. Sono molto impressionante. È un'immagine molto impressionante. Tutti sono incredibili professioni e non riesco a farlo di raccomandare Horn a tutti i miei colleghi. Hanno lavorato molto bene con tutti i clienti. Ho avuto l'experimentazione con diversi salespeople e applicazioni. Ci sono disposti di fare tutto ciò che necessitano per aiutare il proprio servizio. Per me, come gestionista, è davvero fantastico in un po' tempo, in un po' di clienti, 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 e soprattutto, in un po' di clienti. In un po' di clienti, in un po' di clienti da ho fatto, in un po' di clienti, in un po' di clienti, in un po' di clienti. erevmiche di clienti. del cliente, è veramente gigantico.